La musica è la mia vita, la musica per me è un'ossessione, non è una cosa che posso anche non fare Adesso decidi di promettere che se diventerai un cantante famoso, ogni sabato sera ci offrirei una bella cena a tutti noi Va bene, ma non capisco quanto siamo, da quando ero bambino solo un obiettivo Ero convinto che si stesse rovinando nel non studiare, nel non realizzarsi come intendevo io Rappresenta molto quello che penso tutti quelli che stanno qua sotto, ultimi, incompresi, quanti ne volete, ditemi 30 aprile, ennesimo giorno di quarantena Nel momento in cui non puoi più esprimarti c'è qualcosa che dentro di te inizia a non girare più nel modo giusto Non ce la faccio più, sono 57 Saranno almeno una cinquantina i concerti dove lui non voleva salire perché aveva qualcosa prima Devo provare a scrivere una canzone per gli stati, chissà È una vita che ti penso Com'è questa nuova canzone, ti piace? Benedico quelle volte in cui ho scritto di sentirmi solo perché stavo preparando me stesso a non esserlo più Perché si va in chef, si va per piangere, si va per tornare bambini, per commuoversi 1, 2, 3, 4, buio 1, 2, 3, 4, buio 1, 2, 3, 4, buio 1, 2, 3, 4, buio